Omega Constellation Man, l'armonia tra stile e tecnologia. Nel vasto universo dell'orologeria di lusso, pochi modelli risplendono con la stessa autorevolezza del Constellation Man. Questo eccezionale orologio da polso incarna l'eleganza e la precisione, portando con sé una storia di artigianalità e design impeccabile. Il Constellation Man è nato dall'impegno per la creazione di orologi maschili che uniscono stile e tecnologia avanzata. La sua evoluzione si snoda attraverso decenni di design e ingegneria, culminando in un orologio che riflette la personalità di chi lo indossa. Questo modello ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'orologeria di lusso. Uno degli elementi più distintivi del Constellation Man è la sua cassa raffinata, spesso realizzata in materiali pregiati come l'acciaio inossidabile o l'oro. La forma elegante e le proporzioni armoniose si combinano per creare un'immagine di raffinatezza senza tempo. Il quadrante, con i suoi indici accurati e il logo emblematico, rappresenta la fusione di tradizione e modernità. Il movimento meccanico automatico del Constellation Man assicura un'esperienza di precisione e affidabilità svizzere. Le casse in acciaio inossidabile, titanio o oro sono lavorate con maestria, riflettendo l'attenzione al dettaglio che caratterizza il design. Il Constellation Man ha catturato l'attenzione di molti uomini di successo e personalità di spicco. Figure influenti nel mondo degli affari, dello sport e dell'intrattenimento hanno scelto questo modello per la sua fusione di stile e prestigio. Celebrità di fama internazionale hanno abbracciato il Constellation Man come un simbolo di raffinatezza e status. Inoltre, questo modello ha ricevuto riconoscimenti e premi nel corso degli anni, attestando la sua posizione di spicco nell'industria dell'orologeria di lusso. Il Constellation Man è molto più di un semplice orologio da polso, è una dichiarazione di stile, potenza e raffinatezza. La sua evoluzione attraverso il tempo, il design distintivo e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un emblema di eleganza maschile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.